Certo caro, è certo che vi sto già filmando, guarda, vedi che lampeggia, quindi domani dopo quando è cercate motoclubi leoni oppure gruppo trial di protezione civile e vi metto su, mi avete dato voi il permesso? E se vi prendono in giro per il trattore? Ma te fai il seguidore? Leoni, motoclubi leoni, ricordati quello, tutto attaccato e lo metterò su tra domani e dopo, non lo so di preciso, tu tieni controllato, guarda che c'è nessuna montagna, bravo. Spera che la mia la va, aggiudicati.